Allora io sono Marcus Crone e signore e signori bentornati su OGAT Ragazzotti of Garden Tiff e vi lascio qui in alto a destra la scheda del precedente video Stiamo con i miei scrittozzi, tenete d'occhio ovviamente i social ogni tanto Telegram e Facebook soprattutto dove vi dico Ehi, entriamo a fare una partitella Vi ricordo che OGAT è gratuito, trovate il link in descrizione per scaricarlo Stiamo giocando per rilassarci, così per sciallarcela Ha una modalità di quelle casual, ovvero il soccer Questo gioco ovviamente non è soltanto il soccer Attenzione, attenzione Marcus Crone No, la tira da tutt'altra parte Oh, 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 l'aria, la palla è nell'area di rigore avversaria Da accidenti viene ribalzata via, lontana Pezzotto 99, famoso difensore della nazionale italiana Vai, vai ragazzi Segnate questo gol per me, segnatelo Ma dove hai tirato? Attenzione Ed è gol Ed è gol Sì Sì Buona parte il portiere Ed ecco Marcus Crone Che da sola si avvicina al portiere Il portiere è ritornato Mi si era bloccato il paus Ecco Aschiro 97 Che cerca di rimediare il pallone Di nuovo dall'altra parte Marcus Crone è pronto E la ritira dall'altra parte Ma stavolta il difensore del Brasile C'è Sangue sgorga a fiumi Questa Questa partita Attenzione Lungo rilancio del portiere degli azzurri Ma interviene la scuola del Brasile Non c'è però nessun compagno a proseguire l'azione Vediamo come si evolverà Bellissimo Scarcos riesce Sì 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 Eccola la palla La palla Marcus Crone Marcus Crone Baglia tutto Muori il portiere Muori Muori Eccolo Eccolo Il gol Grandissimo Grandissimo Ottimo lavoro Abbiamo preso Il gol Della merda Abbiamo preso il gol Della merda Il portiere stava Non lo so Facendo il solitario Portiere Oddio Tutto da rifare Il vantaggio è di nuovo Soltanto di un gol Per gli azzurri Ma In questo campo Così irregolare Potrebbe succedere Qualsiasi cosa Lancio lungo Che però non trova un compagno Vediamo un po' Se il portiere uscirà Oh 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 Accidentica Occasione sprecata Il tempo sta avvolgendo Allo scadere Attenzione Il Brasile Ultima opportunità Forse per il Brasile Di segnare Ma l'Italia Vince Campioni Del mondo Di calcio Coppa del nonno Ed andiamo A provare La Capture the flag Team Signori Dobbiamo Proteggere Questa Bandiera qui Andiamo a vedere E qua giù c'è un indicatore Andiamo a vedere Andiamo a vedere Ed ecco i nemici Che si stanno avvicinando Preso Dai Ottimo lavoro E qui c'è un'altra bandiera Noi dobbiamo difendere Quelle postazioni Altrimenti Uh 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 E Luca de Castle Luca Se ne va a casa E voilà Anche lui se ne va a casa Attenzione Qualcuno c'è la bandiera Happy Hexagon Ha la bandiera nemica Vediamo un po' E segna un punto Un punto Andiamo Andiamo a prenderla Andiamo di qua Ok No cazzo Mi ha sfondato Merda Ragazzi Prendiamo il medico Perché il medico È davvero troppo utile Ecco qua Il medico cura I suoi alleati E quindi cacchio È molto più probabile Che riusciamo a portarci Guardate Voilà Curato Vieni qui Vieni qui che ti cura Sì però non fate così Regà ma sparate Gli cavolo Mi hanno mezzo sottominchiato MK medico MK medico Perfetto Atrip è stato curato Bella Atrip Vieni qui No ho finito le munizioni Perfetto Tutti curati Tutti curati Sono troppo Sono troppo medico Medico in famiglia Oddio che paura Attenzione perché stiamo Forse stiamo Sì 3 a 2 Un'altra bandiera è stata presa Vieni qui ciccio Pezzotto Vieni qua Pezzotto Aspetta aspetta Ecco qua Pezzotto è stato curato Ottimo lavoro E mi hanno ucciso Cambiamo classe ragazzotti Prendiamo il piro No 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 Ci stanno inculando la bandiera Aio Ma muori Morite Ok Il fuoco È il mio amico Aio mi sparano Mi sparano malissimo Andiamo a prendere la bandiera Ragazzi Cazzo quello lì Li ha uccisi tutti No Luca Why you do this Ci stanno rubando la bandiera Guys Ce la stanno rubando Oh shit Ok Ok Aio Mentre ricaricavo Bastardo 3 a 2 Attenzione ho visto qualcuno Che si vuole avvicinare La bandiera Laggio a sinistra Sono riusciti a prenderlo Oh yes Oh yes Il blue team Vince Dai Ragazzi Help The VIP To reach The extraction point Alive Dobbiamo Aiutare Il VIP VIP è lui Eccolo qua Ci serve un medico Perfetto Non deve affatto morire Altrimenti Se lo ninjano Se viene ucciso Ce la prendiamo Nel culo E finisce la partita Quindi andiamo Perfetto Il medico ci sta aiutando Grandissimo Adrip Grazie del suo duro lavoro Io tengo Sotto occhio il VIP Il VIP però si sposta In maniera un po' strana VIP aspetta Aspetta VIP No Via via Cazzo Nico Ci ha fatto Il culo GG Ragazzi GG Frag sul VIP E ci ha rotto Il culo Bravissimo Proviamo questa volta Invece al contrario Ovvero Noi dobbiamo Uccidere il VIP Siamo ovviamente Dei ladri Per chi non se lo ricordasse I ladri hanno questa meccanica Che possono vedere al buio E sono invisibili al buio Per quanto riguarda le guardie Però sono più deboli A livello fisico Delle guardie stesse Quindi andiamo a spegnere Un pochino di luci Perché altrimenti Ci sgamano subitissimamente Ok E muoviamoci negli spassi Oh 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 Eccoli là Stanno lì Quindi prendiamo Una bella Molotov Mi hanno ucciso Instant proprio Sono morto Valissimo Prendiamo il Jubernauts Vai che c'ha Un bella K Importante Guardate che Che bella difesa Non male Attenzione Già sono arrivati A questo punto Della mappa Loro devono arrivare A sinistra Oh accidenti Non sono riuscito A portarmene qualcuno Via 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 Ragazzi Mi serve qualcuno Che vado a ucciderlo Mi ha ucciso il medico E ragazzi Hanno vinto Mannaggia San Crispino Dice Luca Ah no Regà Fermi Abbiamo vinto noi Perché non c'hanno il punto Si è incastrato dietro Un faffo Un faffo del morto Ottimo Una cosa un po' più semplice Ragazzi Abbiamo Questa Ma pozza gigante Siamo considerati Latri Ma abbiamo queste armi qua E Chi fa più punti Chi uccide più persone Vince il game Ecco Come potete vedere Io ho ucciso un tizio Ma Un albero Con Un fucile Mi ha Mi ha ucciso Siamo 1 a 1 Olè Marco Scroana Se ne porta a casa una No Che cazzo Quando stavo girato di spalle Bisogna fare un'incursione Qui Ragazzi E' super concitata L'azione di questo game No Accidenti Siamo 13 a 12 Ok Però possiamo recuperare Possiamo farcela 20 a 19 Merda Merda Qui c'è qualcuno Vai Dico Vai a casa A casa No Mi hanno sparato Dalla finestra Merda Oh ma guardate Il merda Qui Il merda Cosa fai Cosa fai Oh da tutte le parti Stanno Attenzione I blu Finiscono 40 a 26 Non me ne sono reso conto Minchia Ed ora ragazzotti La mia modalità preferita Guardie e l'anti Dobbiamo rubare Il mystery box Eccoci qua Le guardie Non lo sanno Andiamo A provare A prenderlo Siamo al cimitero Una mappa Molto molto grande Ci muoviamo nell'ombra Cerchiamo di non farci vedere No 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 Il vaso male Sono stato ucciso Da un vaso Un vaso di merda Voglio prendere Il cobra Silenzioso Ma letale Stanno usando La tecnica Della trottola Ragazzi Ok possiamo passare Andiamo 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 Ok Ok Adesso stanno puntando Verso di me Provano a sparare Nel cespuglio Proviamo ad andare adesso Uh Non mi hanno visto Non mi hanno visto Non mi hanno visto Ok Che paura Stanno tutti qua ragazzi Eccolo Dovrebbe stare da queste parti Vediamo Sta qui dentro Io ci provo 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 Ma non si può spegnere La luce di qua No Ma stanno tutti qui Figli di puttana Ok Ok proviamo Da spalla No 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 Mi sparano Ok Marcus Cron È il momento della verità Dobbiamo andarcene Non dobbiamo morire ragazzi Se no perdiamo tutto quanto Ok Ok Marcus Cron Marcus Cron Il tempo allo scadere All'ultimo Cinque secondi Cinque secondi Cinque secondi Cinque secondi Quanto è bella sta modalità Quanto è divertente sto gioco Ragazzi vi ricordo Che pesa 144 megabyte Lo scaricate nel tempo di uno starnuto E secondo me È troppo 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 Divertente Io vi allustro qui Se volete altri game Di Hogat Venite in live Perché ogni tanto distribuisco Delle KVIP Oppure Chiedetemelo qui Con un commentino Con un mi piacino Bella per voi Chiedetemelo qui